Ben trovati al TG6 L'Aquila. Oggi apriamo il telegiornale parlando dell'esposto che il Movimento 5 Stelle ha presentato sull'attività di Abruzzo Engineering. Un esposto per verificare e controllare presunti danni erariali, chi ha sbagliato si assuma le proprie responsabilità. Queste le dichiarazioni del pentastellato Gianluca Ranieri. Il servizio. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla Corte dei Conti sull'attività di Abruzzo Engineering. Ad oggi, come spesso sottolineato dal Movimento, la società in house sta lavorando per il Comune dell'Aquila in violazione delle norme che regolano un affidamento in house, mentre restano ancora esclusi gli doni del cosiddetto concorsone. Non si tratta solo di una questione di priorità, ha spiegato Gianluca Ranieri, firmatario dell'esposto, ma di un danno erariale. Infatti, dal 14 settembre 2015, sono ben 111 unità di personale di Abruzzo Engineering per un impegno di spesa di oltre un milione di euro. Praticamente, specifica Ranieri, circa 4.250 euro al mese ad unità di personale impiegato, più del doppio di quello che costerebbe un normale impiegato assunto direttamente dalla pubblica amministrazione. Queste persone, continua, sono ancora impiegate in servizi di supporto alle attività di ricostruzione fino al 31 dicembre 2015, ma questo è un affidamento che riteniamo illegittimo, come spesso sostenuto. Chi pagherà tutto questo? Si interroga Ranieri. Grazie all'esposto, mi aspetto che la magistratura contabile conduca dei seri approfondimenti su tutta la vicenda, per responsabilità erariale di amministratori, dirigenti, funzionari, responsabili, titolari, ulteriori organi e dipendenti, tutti della regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila, del comune dell'Aquila, dell'ufficio speciale per la ricostruzione e di Abruzzo Engineering, e comunque di tutti i soggetti coinvolti, attesa la presunta disattente e riprovevole gestione delle risorse finanziarie pubbliche. Intanto, conclude Ranieri, il presidente D'Alfonso cerca di reperire in Europa i fondi per tenere in vita l'azienda. Ennesima riprova che di questo carrozzone la maggioranza non sa che fare e che dietro questo salvataggio non c'è alcun progetto, ma solo un'operazione clientelare, una pessima gestione, conclude ancora, della cosa pubblica. E ora veniamo alle bollette del progetto case non pagate, un pasticciaccio da 9 milioni di euro. Ammonta infatti a 9 milioni di euro la somma che è nell'energia, a questo punto pretende per il pagamento delle bollette non pagate relative ai consumi degli alloggi delle Newtown e dei map costruiti nel dopo terremoto all'Aquila. Un credito che è stato poi ceduto a Banca Sistema con l'avallo del comune attraverso una contestatissima però delibera di giunta. Per cercare di trovare una soluzione è stata convocata una commissione bilancio ad hoc, anche se la via d'uscita non sembra così semplice. Ci spiega tutto nel prossimo servizio il nostro Giorgio Alessandri. La vicenda è complessa, molto complessa, tanto da richiedere una commissione bilancio ad hoc per cercare di trovare una soluzione ad un pasticcio di dimensioni bibliche a 6 zeri. 9 milioni di euro per la precisione, ovvero la somma che l'Enel reclamava al comune per il pagamento delle utenze dei progetti case e map. Un credito che, con una contestatissima delibera di giunta, il comune accorda venga ceduto da Enel Energia a Banca Sistema, istituto bancario nato nel 2011 e specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Un via libera che avvenne senza l'assenso dell'allora assessore al bilancio De Santis, assente come l'attuale titolare della delega alle finanze Trifuoggi. In realtà, come denunciato da parte delle opposizioni, quella delibera non avrebbe potuto avere il via libera dall'esecutivo, per una serie di ragioni. In primo luogo perché la delibera di luglio scorso parlava di transazione, mentre in realtà si tratta di una cessione di credito. Quindi un vizio formale che però rappresenta solo il primo punto interrogativo. Banca Sistema non avrebbe avuto i titoli per trattare con il comune, il quale si era impegnato a staldare 32 pesantissime rate da 272.000 euro, che l'ente avrebbe pagato dopo il recupero delle morosità dagli inquilini di Newtown e MAP. Una mission impossible, visto che ad oggi ancora deve essere individuata una società per il recupero crediti delle bollette non pagate. E i soldi incassati finora non coprono, se non una minima parte, di quella che il comune sperava di incassare. Una missione tanto impossibile che per saldare il conto il comune avrebbe dovuto generare un debito fuori bilancio e che pertanto sarebbe stata necessaria un'approvazione in consiglio comunale che non c'è mai stata. Una delle poche vie percorribili, sempre che la delibera venga ritenuta illegittima e quindi ritirata in autotutela, è quella del riconoscimento di un maxidebito fuori bilancio e di una variazione destinata a ricadere sulle tasche di tutti gli aquilani, che probabilmente si troveranno a pagare per bollette e consumi di cui non hanno mai usufruito. E ora la cronaca. 20 giorni di prognosi per un taglialegna, un uomo di 35 anni che ieri a Campotosto, un comune dell'Aquilano, è stato azzannato da un cinghiale. L'uomo stava tornando a casa dopo la giornata lavorativa quando ha visto spuntare nel bosco l'animale. Ha tentato di fermarlo con un attrezzo da lavoro, ma il cinghiale lo ha morso in più punti prima di allontanarsi, scacciato dall'uomo che era in compagnia del taglialegna. L'uomo è stato trasportato immediatamente all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove ha subito un intervento chirurgico. I danni più gravi li ha riportati ad una gamba. La farmacia di Via Strinella è a rischio chiusura. La denuncia arriva da Pier Giorgio Leucata, vicepresidente del Consiglio Territoriale di partecipazione dell'Aquila Centro. Secondo quanto detto dal sindaco Massimo Cialente, infatti, l'imminente apertura di quattro farmacie private metterebbe a serio rischio il funzionamento delle sei farmacie comunali. Per questo si starebbe pensando alla chiusura della farmacia di Via Strinella. Una decisione preoccupante, secondo Pier Giorgio Leucata, in quanto Via Strinella ormai è uno dei quartieri più importanti dell'Aquila, con molte abitazioni, ma anche molte attività commerciali e artigionali. In una visione di rientro degli abitanti nelle zone di accenti al centro storico, dice sarebbe opportuno investire, anziché tagliare con una sorta di miopia amministrativa, servizi come quello peraltro, che ha la capacità di fare in parte da train o alle altre attività commerciali dell'intera zona, per le quali la chiusura della farmacia sarebbe senz'altro un fattore negativo. Parliamo ora della Gran Sasso Acqua, una pubblicazione, un libro per festeggiare i dieci anni. Un volume questo che ripercorre le tappe salienti della società Gran Sasso Acqua, che gestisce nel capoluogo di regione il servizio idrico, compresa la trasformazione in società per azioni. Un'occasione che per alcuni ha rappresentato anche una sorta di investitura per la candidatura a sindaco dell'Aquila dell'attuale presidente dell'azienda Amerigo Di Benedetto. Ci racconta tutto Giorgio Alessandri. Un volume per ripercorrere dieci anni di storia di una società, la GSA, che gestisce forse il bene più prezioso insieme al petrolio, ovvero l'acqua. Gran Sasso Acqua, dieci anni, in SPA, è il titolo della pubblicazione presentata nell'auditorium BIPER, con cui sono stati cristallizzati i momenti salienti dell'azienda pubblica, dalla trasformazione in società per azioni ad oggi. Una serata che, stando alla presenza dei cosiddetti grandi elettori, potrebbe rappresentare per il presidente della società, Amerigo Di Benedetto, il trampolino di lancio verso la candidatura alle elezioni amministrative del 2017 in quota PD. Il nome di Di Benedetto, renziano della prima ora, anche quando l'ex sindaco di Firenze non era ancora assurdo a capo del governo, circa l'ormaggiata da tempo, e chissà che l'occasione pubblica non rappresenti una sorta di investitura in pectore per la corsa al sindaco del capoluogo. Abbiamo tante iniziative da fare, soprattutto nell'ambito dell'attività nostra istituzionale, parlo dello sviluppo delle infrastrutture, attraverso i finanziamenti del caso che abbiamo avuto sia dai fondi FAS che dallo sblocco Italia, nel frattempo va avanti la nostra attività istituzionale, e al contempo non manca occasione di prestare un occhio anche alla solidarietà. Noi vogliamo avere la certificazione di acqua minerale, la stiamo portando avanti, diciamo che è un'etichetta in più, affinché una volta che si possa rientrare nel centro storico, al di là della smart city, della possibilità di vedere le infrastrutture ben riorganizzate, ci sarà anche la possibilità di dare questa etichetta, che i cittadini della città dell'Aquila e del comprensorio, nello specifico dell'Aquila Est, bevono acqua oligominerale, che è una cosa molto, molto, diciamo così, originale. Tornando alla pubblicazione, questa è composta di nove capitoli, ognuno dedicato ad un argomento che ha distinto la storia della Gran Sasso Acqua. Si legge delle origini, della costruzione della nuova sede in via Ettore Moschino, del progetto legato al riconoscimento di acqua minerale e, ancora, della realizzazione delle grandi opere, come quella per i sottoservizi. Un capitolo speciale, infine, è dedicato all'emergenza sisma, alla capacità di gestione della crisi e allo spirito di servizio che ha contraddistinto tutti i collaboratori della GSA, che alle 7 del mattino del 6 aprile 2009, nonostante versassero nelle medesime difficoltà dei loro concittadini, facevano il loro ingresso in azienda per ripristinare il servizio idrico. E ora parliamo dell'Aquila, della nostra città, che venerdì sera sarà in onda su Voyager, in mostra nella trasmissione di Rai 2, le bellezze dell'Aquila, soprattutto quei simboli importanti del primo giubileo della storia, il più antico, quello di Papa Celestino. Roberto Giacobbo, giornalista Rai e conduttore, dedica una puntata speciale, infatti, al giubileo della misericordia, proclamato da Papa Francesco. E la presenza della città dell'Aquila non poteva mancare. Giacobbo, che noi abbiamo incontrato proprio in occasione della giornata di Riprese all'Aquila e il servizio. L'Aquila su Voyager venerdì sera. Su Rai 2, in prima serata, grazie alla sensibilità di Roberto Giacobbo, di recente in città per filmare i luoghi del giubileo, la Basilica di Colle Maggio, il Monastero di San Basilio e altri luoghi simbolo di Papa Celestino V. Uno speciale che la trasmissione Rai dedica al giubileo della misericordia, proclamato da Papa Francesco, è aperto a tutte le città d'Italia. Tra queste l'Aquila, sede del primo giubileo della storia, non poteva mancare, come disse ai nostri microfoni il giornalista Roberto Giacobbo, solo poco tempo fa, la testimonianza di una storia così importante. La truppo, infatti, aveva trascorso all'Aquila una giornata intera, lo scorso 30 ottobre, per girare immagini e interviste della puntata di venerdì. Noi di TV6 ci eravamo con le nostre telecamere. Ma io penso che l'Aquila sia un luogo importante per la sua storia, per il suo presente e per il suo futuro. Io non sono nato all'Aquila, non ho parenti all'Aquila, mi sono innamorato di questa città da solo, senza stimoli. L'Aquila ho pensato di inserirla insieme agli autori con i quali lavoro ogni volta di Voyage, in questo caso Marco Zamparelli, perché questa è una puntata speciale sul giubileo. E parlare del giubileo e parlare solo di Roma non sarebbe stato corretto, anche perché questo giubileo della misericordia Papa Francesco lo ha voluto diffuso sul territorio. E ora lo sport con l'Aquila Calcio. Si torna in campo venerdì sera alle 20.30 allo stadio di Siena per raffrontare la Roborziena. Dopo la vittoria, una bellissima vittoria contro il Prato, la formazione di mister Carlo Perrone torna in campo per quello che potremmo definire un esame di maturità. Abbiamo ascoltato anche il direttore sportivo dell'Aquila Calcio Battisti che si dice molto soddisfatto e soprattutto dice dobbiamo riportare la gente allo stadio grazie al nostro entusiasmo e alle nostre prestazioni. Sentiamo. L'Aquila Calcio è una squadra rinfrancata, ritrovata, diversa. Grandi artefici sicuramente il tecnico Carlo Perrone che ha saputo motivare gli uomini a disposizione, cambiare modulo all'occorrenza, provare i calciatori in ruoli diversi. Tutti hanno risposto positivamente e hanno dimostrato che la vittoria contro il Teramo no, non era stata solo un'illusione. L'ottima prova contro il Prato ha mostrato un'Aquila bella, felice e divertente, capace di riconquistare un pubblico scettico. Noi, a prescindere dall'importanza della partita e del risultato, dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere, quello che ci siamo posti è quello di cercare di conquistare questa gente, di farci volere bene. Quindi domenica è stato un passaggio importante verso questa direzione e siamo contenti. A proposito di pubblico, la squadra sta facendo il suo in campo. Ora aspetta la piazza a rispondere e assicurare a un pubblico degno di un campionato di Lega Pro, perché i numeri quest'anno sono impietosi. Noi abbiamo bisogno di sentire calore intorno a noi, di sentire positività, però bisogna comprendere la gente che oggi come oggi i problemi sono tanti e quindi lo stadio diventa l'ultimo. Però, ripeto, noi abbiamo l'obiettivo oltre quello di fare bucchie, di vincere le partite, quello di farci utile bene dalla gente. Quindi noi dobbiamo lavorare e cercare di far capire alla gente che questa è una squadra che merita il loro affetto e la loro vicinanza. In tutto questo, venerdì sera si gioca a Siena contro una delle nobili dei Gatute. Una squadra fatta da grandi nomi, ma con il tecnico sulla graticola dopo la sconfitta contro il Teramo. Un momento buono per la formazione Rosso-Blu, che però sa che è vitale non interrompere la corsa, perché alle porte c'è l'avvio del processo Dirti Soccer e a gennaio il mercato, dal quale sicuramente qualche movimento verrà fuori. Siena non è una buona squadra, Siena è una grande squadra. Ci sono giocatori che fino all'anno scorso, due anni fa, giocavano in Serie B e qualcuno ha giocato pure in Serie A. Quindi capiamo già da questo l'importanza della partita e la difficoltà della stessa. Noi però non dobbiamo guardare in casa degli altri, perché non l'abbiamo mai fatto, neanche quando magari i risultati erano diversi da quelli di oggi. però siamo consapevoli di una cosa, che noi non abbiamo ancora fatto assolutamente niente e quindi ogni partita per noi è troppo importante. E un'ultima comunicazione di servizio per i nostri telespettatori a causa di un guasto sulle linee Telecom i cui tecnici sono comunque già a lavoro per le riparazioni, servizi resi dagli uffici comunali che hanno sede in Via Roma, 207, cioè rilascio carte d'identità, certificati, tributi, sono molto rallentati e in diversi casi a causa di questo guasto alle linee telefoniche Telecom non potranno essere affatto erogati. Ci si scusa con l'utenza, si legge in una nota del Comune dell'Aquila per i disservizi non causati certamente dal Comune. Con questa notizia termina il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per la vostra cortesia e attenzione e vi invito anche a rimanere su TV6 per la nostra consueta programmazione. Arrivederci. Grazie a tutti.